Ballando con le stelle è la certezza del sabato se la dirai uno? Ballando con le stelle c'è, adesso dobbiamo essere una certezza anche per soridità, di ascolti, di piacere della gente, di seguirci, insomma dobbiamo rinnovare il nostro passo di amicizia con il pubblico di vero. E a proposito, alla presentazione dei palinsessi non c'è la giuria di ballando come tutti gli anni, però se dovesse essere invitata la giuria chi dovrebbe... Sulla giuria di ballando si parlerà a settembre, prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria. Però se il budget ha detto di essere stata riconfermata? Adesso per il momento si dicono tante cose, ripeto, il cast e poi la giuria. Quindi vuoi dirci qualcosa adesso sul cast? Il cast deriverà anche molto dal budget che ci affideranno, che adesso ancora non è stato deciso. Stiamo facendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì, ma poi bisogna vedere se noi abbiamo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone che vorremmo chiudere. Si è parlato tanto di Barbara D'Urso, cosa puoi dirci tu a proposito? Barbara è una grandissima professionista, le faccio un in bocca al lupo veramente grandissimo, in modo che la sua carriera, o comunque lei sceglierà ad andare, continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto Signore. Senti, è il cantante mascherato? Se ne parlerà, poi dovrete sempre parlare di otto cose insieme. Dopo il Capodanno cominceremo a parlare della prossima. È stato confermato però. Adesso si parla di ballando, solo ballando. L'ultima domanda, cosa ne pensi dell'ingaggio di Lusonali Tizzetto da Kuski e Vades? Sì, che questa è la stagione in cui ci sono gli arrivi e le partenze. Ed è stato, come succede nel calciomercato, il TV mercato ha creato un po' di partenze e un po' di arrivi. Quindi è la normalità del nostro mondo. Stai preparando qualche colpo a sorpresa anche tu? Speriamo, speriamo. Grazie. Ciao.